Grazie di cuore, grazie dell'invito, grazie Gian Piero, grazie Rita, buongiorno a tutti. C'è un sacco di cose che mi sono segnate, quindi intanto vorrei partire dal grazie dell'invito. Quando ci siamo sentiti via sms con Rita, io in realtà ho pensato tutto il male possibile di voi, perché è vero che vi abbiamo preso Poletti, a prendere in cambio la Ghedini come la considero una ritorsione, perché Rita ha parlato di lealtà e io vorrei tributare davvero dal profondo del cuore, Pierluigi sa bene a cosa ci riferiamo per la storia da cui veniamo, che è una storia anche di discussioni interne, ma di lealtà tra di noi. L'atteggiamento che Rita ha avuto al Senato è stato assolutamente decisivo nei primi mesi dell'azione del governo, quindi quando mi ha detto vado via è venuta una coltellata al cuore pazzesca e la considero però una bellissima opportunità per la cooperazione dell'Emilia Romagna, che per molti aspetti è la cooperazione, lo dico da toscano, farò felice i miei amici, non soltanto del Mugello, ma per affrontare le sfide difficili che la cooperazione ha, che Gian Piero ha ricordato, che Rita ha ricordato, che sono sfide per le quali i prossimi mesi saranno decisivi, e non perché c'è una vicenda specifica in una città o in un'altra, ma perché il modello economico che noi abbiamo di fronte è un modello complicato e in cui la cooperazione deve essere in grado di investire sul futuro e sull'innovazione, come Granarolo ha fatto, come Granarolo sta facendo e come è assolutamente necessario in tutta Italia. Io non voglio dire che c'è una buona cooperazione e una cattiva cooperazione, io dico che la cooperazione se è fatta con quegli ideali di allora e che le modalità e le caratteristiche di oggi è un qualcosa che serve all'Italia, la cooperazione serve all'Italia se fa la cooperazione. Allora da questo punto di vista io vi auguro di cuore in bocca al lupo per le sfide che come mondo cooperativo, come mondo di Lega Cobb, come mondo dell'Alleanza avrete di fronte a voi nei prossimi mesi, il governo è pronto a essere parte leale nel rapporto con voi, nelle modalità che insieme decideremo di affrontare. Secondo punto, io credo che sia particolarmente affascinante la ragione Maurizio quando ha ricordato, come hanno fatto peraltro anche Virginia, Stefano, Paolo, la storia di Granarolo. Pensavo esattamente alla mia terra. Nel 57 voi fate la sussidiarietà e i mezzadri fanno la cooperativa del latte. Da noi c'era il sindaco Lapira che nel 54, partendo dal presupposto di dover dare un bicchiere di latte a ogni bambino, perché questa era la forma di giustizia sociale, la centrale del latte di Firenze nasce perché Lapira dice che devo portare nelle scuole il latte, perché se no ce l'hanno soltanto i figli di quelli che stanno bene, il latte. Ed è una storia che è particolarmente bella. Io non so cosa pensano oggi i miei conterrani del Mugello, so che probabilmente per quell'ideale di Giorgio Lapira di allora sarebbe molto bello che si potesse allargare la vostra presenza nelle varie cartine. In Toscana non vi sta un po' stretta solo su Pisa, bisognerebbe un po' allargarsi che ne pensino alcuni dei nostri conterrani, ma perché? Perché quegli ideali e quei valori oggi cambiano le modalità con le quali vengono declinati e diffusi. E allora da questo punto di vista ci sta la storia dell'Italia, ci sta la storia dell'Emilia Romagna e della città di Bologna, il vostro sindaco ne è giustamente orgoglioso, il vostro neopresidente della regione che ha una bella eredità ma che è sempre più simile davvero a Bruce Willis, da quando è l'Alia. La prima cosa che mi ha detto è che ho la cravatta più bella della tua, quindi questo per dire il livello istituzionale, il titolo quinto, robe notevoli, però voi siete giustamente orgogliosi di quello che fate sul vostro territorio e noi con voi siamo orgogliosi di ciò che fa Bologna e di ciò che fa l'Emilia Romagna, ma pensiamo che la nostra casa sia davvero il mondo e che quindi di conseguenza quella metafora dell'expo e dell'export che Maurizio vi ha offerto, che Paolo per il suo lavoro al Parlamento europeo ci ha offerto e che il Presidente che Gian Piero ci ha declinato e definito nella sua presentazione, io credo che sia una grandissima opportunità non soltanto per Granaloro ma per l'Italia. E allora vado molto rapido sui punti che sono stati citati, io credo che nel 2015 l'Italia sia di fronte a un bivio, o si rimette in moto oppure l'Italia perde l'occasione più grande che una serie di coincidenze talvolta studiate, talvolta casuali, le mettono oggi davanti, per dirlo in modo legato all'agricoltura, io credo nel 2015 come anno felix, non vuol dire felice, vuol dire fettile, come anno in cui sarà possibile costruire una scommessa Paese in modo più forte di come abbiamo fatto fino ad oggi, perché? Perché ci sono le condizioni con la riduzione che abbiamo fatto di tasse per il mondo del lavoro, l'IRAP, sulla parte lavoro, la decontribuzione totale per i nuovi assunti a tempo indeterminato, per cui chi nel 2015 assume, Giuliano è ovviamente magna parse in questa scommessa, chi nel 2015 assume avrà per tre anni la decontribuzione totale, la possibilità che stiamo cercando di difendere in tutti i campi e in tutti i settori di una semplificazione, porta anche a alcune discussioni, penso alla discussione fiscale, ma è del tutto evidente che a parte le questioni di cui si approvano sui giornali, ci sono un sacco di spazi sulla delega fiscale che sono anche oggetti di confronto e magari anche di scontro, non dico soltanto il reverse charge, io penso che se noi facciamo la fatturazione elettronica anche nei confronti del privato e finalmente facciamo la fatturazione elettronica, i 30 giorni diventano non più un obbligo europeo, ma un dato di fatto e quindi su questo tema stiamo andando forse persino troppo piano rispetto a come dovremmo andare, ad esempio sul tema della delega fiscale sulla fatturazione elettronica e quindi di conseguenza sui debiti che la pubblica amministrazione continua ad avere nei confronti dei privati, oppure penso ancora quanto sia fondamentale riuscire a semplificare il modello amministrativo, importantissimo ciò che viene fatto a livello territoriale, ma dobbiamo fare ancora di più, la legge delega è appunto in discussione in questo momento in commissione al Senato, attende che si sblocchi il passaggio della legge elettorale e poi arriverà in aula, per poter permettere a questo Paese di tornare ad essere semplice, noi non vogliamo inventarci nuove regole, vogliamo togliere un po' delle regole che già ci sono e in questo senso però dobbiamo avere verso l'Europa un atteggiamento molto più da protagonista, lo dico di fronte a uno come De Castro che ha fatto un sacco di cose belle e positive e a cui tutti voi riconoscete e riconosciamo una grande esperienza nel settore, ma diciamoci la verità, in Europa noi troppo spesso siamo abituati a pensare che si debba andare in Europa, Europa è casa nostra, uscendo a Bologna, stando a Granarolo, andando a San Lazzaro o andando in qualsiasi posto del nostro meraviglioso Paese, noi siamo già in Europa e dobbiamo smettere di pensare che l'Europa sia quella cosa che ci salva, noi abbiamo salvato l'Europa in questi anni, noi abbiamo salvato le banche spagnole con i nostri soldi, noi abbiamo salvato la Grecia con i nostri soldi e abbiamo ricevuto molto meno di quello che abbiamo dato, un po' per responsabilità nostre, un po' perché ancora il paradigma economico europeo è un paradigma che non funziona come dovrebbe, ecco perché stiamo cercando di spostare molto di più l'attenzione sui temi della crescita e degli investimenti, anziché sull'austerity, dire questo non significa essere contro l'Europa, a maggior ragione lo voglio dire oggi, lo riaffronteremo nella sede naturale propria che è quella dell'università, la più antica università dell'Occidente, forse è il luogo più bello e più naturale per stare in questi giorni, perché se c'è un obiettivo di chi scommette sul terrorismo è quello di farci perdere l'idea di quello che noi siamo, e noi siamo l'università di Bologna, noi siamo l'idea che la cultura e il sapere siano l'antidoto alla paura e al terrore, e allora in questo scenario però oggi finalmente si capisce che l'Europa non è soltanto una questione economica, è qualcosa di più, di più grande, di più importante, di più significativo, ma tutto ciò ci porta a dover essere protagonisti come Italia, ecco perché il 2015 dovrà essere un anno felix, ed ecco perché l'Expo finalmente liberato e depurato dalle discussioni su come sono stati i procedimenti amministrativi, noi più che piazzarci lo stopper Raffaele Cantone non potevamo fare per quello che è stato fatto nel passato e adesso siamo in condizione di poter dire che dal punto di vista procedimentale siamo tranquilli, però adesso la grande sfida è duplice, da un lato ideale, fatemelo dire in un luogo, non mi permetto di dire in un luogo di sinistra, però e non voglio nemmeno aprire la discussione tra di noi su questo e sono consapevole di essere qui come rappresentante del governo, però in un luogo nel quale l'ideale con la I maiuscola, che peraltro è un ideale che appartiene a tante diverse culture, non soltanto a una singola cultura, l'ideale è quello di andare a combattere contro cosa? Contro l'ingiustizia, allora quale settore è più grande di quello della cibo per dire che c'è un'ingiustizia nel mondo quando un miliardo di persone muoiono per malattie legate alla mancanza di cibo e un miliardo e duecento milioni muoiono per malattie legate all'eccesso di cibo, ecco dove sta la grandezza dell'Expo innanzitutto come ideale ed ecco perché con Maurizio il 7 febbraio saremo a Milano e con Maurizio continueremo a lavorare sulla carta di Milano, riaffermare l'idea che questo tema dell'Expo una volta finalmente depurato dalle questioni amministrative sia la grande sfida per ragionare di che cos'è oggi l'ideale in politica con la I maiuscola, per me è ad esempio la grande questione del cibo che poi si declina in un modello di stile di vita che poi diventa fattore economico e qui arrivo concludendo a tutta la filiera dell'agroalimentare italiana filiana nella quale noi siamo leader nel mondo perché l'agroalimentare sono i macchinari, perché l'agroalimentare è la cultura, perché l'agroalimentare sono i nostri ingegneri che lavorano nell'innovazione in questo settore e che poi arriva al prodotto, prodotto così serio, così bello, così buono, così drammaticamente sottoutilizzato, quante volte ci siamo dati i soliti dati, 90 miliardi di mercato potenziale e 30, 36, 35, 34 miliardi di Euro di export di prodotti veramente italiani, i prodotti Italian sounding che col suono italiano vendono molto di più, vendono quasi il doppio di quello che vendono i prodotti italiani, perché è mancata probabilmente da parte nostra una cultura paese nel andare a difenderla, che non è soltanto la difesa dell'etichettatura sacrosanto del made in Italy, ma proprio un ragionamento sul fatto che una cosa è il parmigiano e una cosa è il parmigiano reggiano, e che quando noi diciamo che fatto in Italia non è semplicemente un prodotto buono, ma è un prodotto che ha una cultura, perché il latte di questa terra ha una cultura, che è una cultura fatta da quei valori che ci avete raccontato così splendidamente oggi, allora se siamo in grado di poter fare una scommessa su questi temi qui, sì che diventa un fattore economico il 2015, un anno Felix inteso come anno fertile, ma significa dover avere il coraggio noi come governo di fare ancora di più di quello che abbiamo fatto, Maurizio ha fatto un elenco puntuale che io condivido, dobbiamo fare di più ad esempio in alcuni mercati stranieri, per esempio il mercato più grande è quello americano, noi a marzo, tra marzo e aprile faremo una missione di sistema non nella East Coast o nella West Coast, ma nel centro dell'America, dove ci sono ancora margini di crescita pazzesche per i nostri prodotti agroalimentari, dove si gioca una parte della sfida da Chicago al Texas, che ancora non abbiamo giocato come dovremmo fare e sta facendo un grandissimo lavoro Carlo Calenda insieme a tutti noi nel tentare di dare questo messaggio di crescita e naturalmente le grandi questioni che vanno dalla Cina fino ai paesi che non possiamo più neanche chiamare emergenti, perché sono già più che emersi, in una cornice difficile perché è una cornice in cui il mondo internazionale soffre e io non posso stare qui a tediarvi ancora sulle questioni di natura geopolitica internazionale, ma devo assolutamente evidenziare come le prime cose che stiamo cercando di fare dal primo giorno in cui siamo al governo sono Mediterraneo, 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 Balcani, 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 perché o l'Italia torna a fare il ponte come anche la configurazione dello stivale lascia in qualche modo presagire e immaginare o l'Italia sta perdendo la propria dimensione, il proprio ruolo in Europa. Ecco perché tutti questi temi che sembrano slegati sono tenuti insieme da un filo rosso che è il filo rosso della politica, della bella politica, della politica che non è fatta di insulti, della politica che non è fatta di improperi, della politica che è fatta di certo di un tentativo di avere uno sguardo pieno di riforme ed ecco perché noi stiamo provando a tenere insieme della riforma costituzionale alla legge elettorale, alla semplificazione amministrativa, alla giustizia civile, agli investimenti sul terzo settore, all'innovazione che serve nel mondo delle banche, Gian Piero l'ha detto perché poi c'è un problema anche di banche, noi in Italia ne abbiamo troppe di banche, dobbiamo averle forti, solide, belle, ma banche che siamo più in grado di fare credito innanzitutto alle piccole e medie imprese, meno attenti agli equilibri dei salotti e molto più attenti a chi è piccola e media impresa, specie in una cornice così difficile come quella che le nuove regole europee hanno offerto. In questo scenario c'è da fare un compleanno che non è un compleanno, c'è da fare una celebrazione che non è una celebrazione, c'è da fare un momento di festa che non è un momento di festa ma è semplicemente l'inaugurazione di una nuova, semplicemente lo so che non lo posso dire perché con tutti i soldi ci avete speso, adesso mi dà come si dice in Fiorentino un occhino da dietro, ma è semplicemente un primo passo perché io te lo dico con sincerità caro Presidente, noi con Maurizio ne parlavamo, un miliardo non ci basta mica, questa storia che voi siete qui a festeggiare il primo miliardo, noi stiamo aspettando il secondo miliardo immediatamente perché pensiamo che Granarolo abbia una storia meravigliosa alle spalle ma abbia una storia ancora più bella davanti a noi, ci crediamo davvero, ci crediamo al punto che vi sfidiamo a fare ancora meglio di quello che avete fatto, vi diciamo che ci sono dei valori che stanno dentro la vostra storia, che sono valori molto più grandi dei valori economici, vi diciamo anche, questo è un punto che credo ci caratterizzi, che può darsi che noi non facciamo tutte le cose per bene, che ne sbagliamo tante, che non saremo in grado di azzeccare tutte, ma che ci stiamo provando con una grinta, una determinazione e una voglia di rimettere in moto il paese che proviene non semplicemente dal bisogno di rendere ragione del tempo che stiamo impegnando il governo, ma che proviene dalla profonda convinzione che l'Italia ce la possa fare. Ecco, per me il 2015 inizia fuori Roma per la prima volta qui oggi a Bologna, in questa città che ha molto da insegnare all'Italia e all'Europa, vorrei dirvi da questa terra di lavoro e di competenza e di passione e di determinazione complimenti per quello che avete fatto, continuate a lavorare con ancora maggiore incisività, io spero ad esempio che la prossima volta che torniamo ci siano non soltanto coperte le regioni che prima ricordavo, quella che inizia con la T e finisce con Oscana, ma anche perché no, la Campania e la Sicilia per il lavoro che può svolgere l'agroalimentare nella ripartenza anche del nostro mezzogiorno, già avete molte cose in Calabria e non soltanto, però vi dico anche, questa passione e questa determinazione che noi stiamo mettendo è la stessa che stanno mettendo tutte le italiane e gli italiani di buona volontà, oggi dicendo bravi a voi diciamo bravi non soltanto ai dirigenti passati e futuri, ma diciamo anche e soprattutto grazie a chi con il proprio impegno quotidiano dimostra che l'Italia della rassegnazione sarà sconfitta e l'Italia della proposta, l'Italia dell'impegno, l'Italia del coraggio sarà l'Italia che vincerà la sfida del 2015. Complimenti a Granarola e in bocca al lupo a tutti.